Ciao a tutti, stanno per finire Whatsapp e Telegram o servizi di messaggistica, diciamo, che richiedono Internet. Ma vedremo, comunque è arrivata questa nuova app, diciamo, Do Stupno, che significa disponibile, ed è lanciata da un team di sviluppatori italiani, diciamo così. Quindi, quest'app funziona sfruttando gli squilli del telefono, anziché la rete dati, per cui è completamente gratuita. È un'invenzione italiana, come dicevamo, e come funziona? Funziona che i messaggi vengono trasmessi non tramite la rete di connessione dati, ma attraverso una tecnologia che decodifica all'interno degli squilli telefonici. Quindi l'invio dei messaggi, diciamo, tramite questa app è completamente gratuito. Serve un credito telefonico per lanciare la chiamata, ma poi non vi è nessun addebito. Anche l'app, diciamo, è gratuita nella sua versione con la pubblicità. Diciamo che attualmente sembrerebbe che ci, sembra che ci siano alcuni, ancora alcuni problemi, qualcosa di messo a punto, vedremo come funziona. Questo poi serve per mandare messaggi. Ovviamente WhatsApp oggi viene utilizzato soprattutto anche per mandare foto, per mandare video, quindi non so poi quanto riuscirà a soppiantarla. Però diciamo che è un primo inizio, diciamo così. Vedremo quello che la tecnologia ci offrirà. Va bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivetevi al canale YouTube attivando la campanella, così potrete ricevere le notifiche delle live, partecipare alle live e, partecipando alle live, ottenere risposte in diretta alle vostre domande, nonché chattare con persone interessanti. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao!